Tanta amarezza a Pistoia per la retrocessione in Serie D della Pistoiese, proprio nell'anno in cui la squadra festeggia il centenario della sua fondazione. Quella di ieri è stata una domenica bruttissima finale, purtroppo in linea con un'annata tra le peggiori della storia della squadra arancione, a sintetizzare lo stato d'animo dei tifosi e il sindaco Alessandro Tomasi. Sì, una grande amarezza prima di tutto da sportivo e da tifoso della Pistoiese. Io naturalmente ci avevo creduto fino in fondo, la speranza era quella di vincere almeno le ultime due partite e giocarsela ai play-out. Così non è stato, il campo ha segnato amaramente il verdetto e purtroppo ad oggi siamo retrocessi in Serie D. Quindi dobbiamo immediatamente, e credo la società tutta, dalla holding e alla pubblica amministrazione che è disponibile, guardare al futuro per salvare la società e metterla nelle condizioni di disputare il prossimo campionato. Ecco, come sono le prospettive al momento? Intanto lo stadio a che punto è? No, lo stadio è a buon punto, la Tribuna Ovest ha tutte le verifiche sismiche e statiche, ha tutte quelle accortezze insieme alla curva sud necessarie a giocare la Serie C e stanno andando in questo momento il cantiere avanti per la messa a norma della curva nord. Prima per una capienza ridotta di 900 posti e poi via via nel tempo faremo anche lavori per riportarla alla piena.